Utilizzate questo esercizio per divertirvi con i vostri amici, fate un autopassaggio sulla paretina, la scavalcate, andate a fare un taglio esterno per poi dirigervi sui cinesini e fare uno slalom. Utilizzate le slow motion per andare ad osservare e a capire le gestualità nel dettaglio. Sono utilissime perché vi fanno cogliere tutte le particolarità di ogni gestualità, guardate come nel taglio esterno vado ad agganciare la palla per cambiare direzione, faccio la Veronica Zidane e mi vado a dirigere verso i cinesini per fare uno slalom. Grazie a tutti.